Autodromo del Mugello Oh vai, questa giovane promessa del MotoGP ragazzi questo qui io lo vedo fra due anni questo qui fra due anni fa le bue in terra questo deve il fumo alle schiacciate, te lo dico io questo qui è un campione notare l'abbigliamento, le ciantelle, la maglia di lecce Usquarna 750k Fija e .2 questo motore ragazzi è un motore che fa le bue in terra andiamo a riscaldare le rotte per una maggiore aderenza all'asfarto potenza massima di questa fuori selle di che sta bene? da paura, mi frema l'asfarto un caso eccoci, sta per iniziare la performance attenzione, vai, gas a manetta manopola in fondo e via ecco Valerio, sta per partire, ecco Valerio no, cascavo Valerio ragazzi e duravo poco, c'è da dire che duravo poco non l'avrei detto, tutto questo assino per poi, via, ma ci deve essere stava un problema alle gomme, un problema alle gomme secondo me c'è stava un problema alle gomme d'aderenza asfarto troppo di accio vai, via, bocca per la terra e via, strusciata in marciapiede grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti